va mo se raccolgono ma siamo i 20 di settembre l'acaccio è fiorito in maggio i primi di maggio il tiglio è fiorito i primi di giugno e allora cosa raccolgono adesso grazie ma poi arrivano cariche perché danno una botta una sbacciarlata che si vede che sono piene polline e pensare che è tre giorni che piove è tre giorni che piove l'erba medica sarà fiorita qua fra una settimana o due ma se lavorano che spettacolo grazie 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 che vadano nel bosco il bosco è sempre una risorsa grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Chissà che cosa sarà. Che spettacolo. Qui c'è l'altro magazzinetto. Guardate qua. Un bel nucleo di accoppiamento api regine. Addirittura c'è l'orologio. Qui ci sono delle sartori a favo caldo. Altre due sartori. Là c'è uno normale Dadant. Che spettacolo. Lì ci sono delle polistirolo da metterci eventuali nuclei. Quella è sempre quella per il nucleo di accoppiamento api regine. Qui ci sono delle sartori a favo caldo. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.